Buongiorno colleghi, sono le 11.05, siamo assistiti per la prima volta dalla segretaria Adele Vicari, alla quale vi chiederò di procedere all'appello, ma che già sin da subito ringrazio per la disponibilità data all'ufficio di staff del Consiglio Comunale e quindi indirettamente a me come Presidente di questa Commissione. Quindi dottoressa Vicari, le chiedo di procedere all'appello. Perfetto, allora lieta di partecipare al vostro appello, alla vostra condivisione, purtroppo sono un po' a disagio perché è la prima volta in assoluto, verbalizzo perché da poco mi trovavo in settima Commissione, quindi devo abituarmi un po' a tutto e mi trovo per la prima volta purtroppo da voi. Adesso faccio l'appello che mi hanno dato un po' di materiale improvvisato ieri da questa supplenza. E allora, il Presidente Mattaliano presente, poi Giapponia Massimiliano non vedo io qui in elenco, io dico chi c'è, quindi è molto assente. Poi Arcoleo Rosario non lo vedo, Di Pisa Carlo non lo vedo, Carrandelli Fabrizio non lo vedo, in realtà io vedo solo il Presidente e Rosario. Li deve leggere tutti, gentilmente li deve leggere tutti perché siamo in sottoregistrazione. Ok, no, non lo sapevo questo. Ferrandelli Fabrizio non c'è, assente. Ficarra, Elio, assente. Forello, Ugo, assente. Lomonaco, Rosalia, dovrebbe dare la presenza, dovrebbe rispondere suppongo. Certo. Ha chiuso l'audio però. Consigliere Rosalia Lomonaco. Vado avanti, vado, vado avanti. Ok, Meli Caterina, assente. Susinno Marcello, assente. Russo Girolamo, assente. Santillo Giulio, assente. Gelarda Igor, assente. Quindi Presidente Mattaliano e Lomonaco Rosalia presenti, però vorrei che rispondesse. Presente. Lieta pure di conoscere lei. Piacere, mi scusi, ho un attimo, una telefonata, diciamo, di lavoro, però piacere. Non avendo raggiunto il numero legale, la seduta è rinviata di un'ora e più precisamente alle ore 12 e 07. Ci rivediamo tra un'ora. Grazie. Ok. A più tardi. Stacco la registrazione. Sì, ma rimani lì, non scappare. No, 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 no. Solo che non capire cosa è successo. No, 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 no. No, no, no. reservationsohn forse.